giuro di osservare realmente la Costituzione italiana Comunicazione avvenuta nomina dell'aggiunta Comunico la nomina dell'aggiunta avvenuta con il proprio provvedimento numero 16 in data 19-6-9, indicando altresì le deleghe attribuite agli Assessori Assessore Aguzzi Alessandro, Dere, turismo, politiche per la valorizzazione del territorio politiche più validi, protezione civile, terzo settore, associazionismo e cooperazione Assessore Mattezzoni Alica, Dere, cultura, politica ambientale ingegna urbana, scelta fondi europea e nazionale, innovazione tecnologica Assessore Dicino Unità, Dere, politiche sociali, scuola, politiche per la famiglia, sanità, pari comunità Assessore Dicino Unità, Dere, bilancio e finanze, tributi, personale, politiche economiche e intercognative Comunico la nomina dell'aggiunta avvenuta con il proprio provvedimento numero 17 19-19-6-9 e le deleghe adesso a chiude Dice Sindaco e Assessore Unciderone Dere, sport, tempo libero, storia e tradizioni locali, polizia municipale Lascio a me di te che fanno urbanistica, ai lavori pubblici e agli affari generali In questa sala è un'istoria, non senza persone di protezione, sempre monografo di rappresentare il Comune e lei non ci deve Finalmente è finito il periodo territorale dove il nostro Comune ha visto con caporsi e schieramenti di persone che rappresentavano le azioni politiche sempre non definite ma comunque sia capace di provare di vivere la nostra giornata Come in tale tale circostanza ho detto, dobbiamo essere consapevoli che la vita è contribuita al primo luogo da più valori per la scienza e solidarietà che noi, come San Salino, anche se un Comune cerchiamo di ricambiarci Per questo, al gran voce dico che stiamo assolutamente felici Grazie 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 a tutti. 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 Grazie a tutti.